Ciao a tutti amici e benvenuti a questa nuova lezione d'italiano. Sono molto felice di poter commentare insieme a voi alcune notizie molto importanti e molto positive per l'Italia e per l'Europa. Allora ringrazio come sempre il Fatto Quotidiano che ci permette di commentare le sue principali notizie. Allora, accordo su antispread e salva stati al vertice UE vince l'asse Roma Parigi. Quindi è molto importante il titolo di apertura, mantiene dei termini, utilizza dei termini molto complicati, però io tenterò di renderli molto semplici. Quindi, letteralmente, accordo encontrato, seria entre comillas, accordo encontrato sobre, digamos, medidas antispread e salva estados. La cumbre, durante la cumbre UE, letteralmente seria a la cumbre o en la cumbre UE, gana e legge Roma Parigi. Allora, cosa vuol dire in termini più semplici? Ustedes saben che Europa sta sotto una situazione, diciamo, economica un po' difficile, perché i mercati stanno facendo speculazione. Italia, España, Alemania, quando necessitano di nuovo, cosa facendo? Se endeudano con i mercati e come lo facendo? Lo facendo emitendo títulos de estados, osea, emitendo bonos del tesoro, bonos estatales del estado. Y, entonces, hay una diferencia entre los rendimientos que cada estado tiene que garantizar a los compradores de esta deuda, a segunda del país. Por ejemplo, y este interés, ese rendimiento, lo tiene que garantizar a los investidores, osea, a las personas que compran esas deudas de los estados, y a veces puede ser el 2%, el 5%, el 7% para que la gente compre y siga comprando esos bonos del estado. ¿Qué pasa? Que claramente los mercados prefieren algunos países a otros, a segunda de su fortaleza económica, o a segunda también de factores de especulación. Entonces, Alemania hasta ahora, en claro conflicto de interés, eso es mi opinión, y opinión de muchos otros expertos, prácticamente está haciendo una especulación, porque gana mucho por esta situación política que se ha creado en Europa. Y no quiere, prácticamente, cambiar la situación, porque le conviene, ya que Alemania puede plazar, prácticamente puede vender, entre comillas, su deuda a un precio muy bajo, a un rendimiento muy bajo, mientras países como España e Italia tienen que venderlo en el mercado a un precio muy alto, garantizando un rendimiento muy alto. La diferencia entre el rendimiento de los bonos del tesoro italiano y los bonos del estado alemán, disculpe, es llamado spread. Como también es llamado spread, la diferencia de rendimiento de los bonos de España con lo de Alemania. Alemania es como si fuera un punto fijo donde todos los países quisieran llegar a nivel de rendimiento. Pero el problema es, prácticamente, que, en realidad, Alemania está ganando muchísimo, ya que está en conflicto de intereses, porque participa a la cumbre y es parte de un estado miembro de Europa, pero a la vez no quiere ratificar importantes medidas, a nivel político, a nivel europeo, para que se calmen los mercados. Porque los mercados, los rendimientos que quieren que se paguen para que, digamos, los mercados compren la deuda española, financien la deuda italiana, no son realmente legítimos, porque es pura especulación. Es pura especulación y no tiene nada que ver con la fortaleza del estado miembro en cuestión, sea España, sea Italia. Así que, en realidad, para calmear, para, digamos, terminar con esta especulación nefasta, horrible, para el pueblo europeo todo, entonces, había que encontrar medidas que pudieran calmear, pudieran destruir ese tipo de especulación y salvar esos estados, que, de todas formas, se están portando muy bien, ya que para, digamos, disminuir la deuda nacional, España e Italia, están utilizando medidas drásticas para contrastar los gastos y recortar, digamos, cada forma de gasto a nivel estatal. Adesso in italiano. O sea, entonces, la buena noticia es que, finalmente, Italia, España y Francia han podido ponerse de pie, puntar los pies, decir no a Alemania. Ahora tú tienes que, digamos, garantizar que en Europa se pueda vivir de forma más tranquila, no podemos permitir esa especulación a nivel financiero, tenemos que salvaguardar, tenemos que proteger los ciudadanos, entonces, por favor, bueno, no, por favor, dijeron, o tú lo votas o no se hace más nada con Europa. Bien, allora, adesso in italiano, quindi, accordo, quindi è stato incontrato, è stato finalmente, diciamo, raggiunto, lo grado, l'accordo sulle misure, sopra la medida, sulle misure anti-spread e sulle misure per salvare gli stati in difficoltà. Quindi, al vertice, che significa cumbre, al vertice europeo, dell'Unione Europea, vince l'asse, l'Ege, vince, significa Ghana, vince l'asse Roma-Parigi. Perché Roma, Parigi e anche Madrid, anche se qui non è menzionato, hanno trovato una formula di interazione, grazie alla quale hanno potuto premere, hanno potuto fare esercitare pressione sulla politica europea e quindi hanno vinto, ha ingannato Alemania. Cosa molto divertente, proprio nella stessa nottata, durante, diciamo, più o meno nello stesso arco di tempo, l'Italia ha vinto, anche a livello sportivo, come ho detto in un'altra notizia, la Germania. Quindi, una doppia vittoria italiana, sia in ambito sportivo che in ambito diplomatico e anche politico. Dunque, continuiamo a leggere il titolo, il sottotitolo. A Bruxelles, Mario Monti, che è l'attuale presidente dei ministri italiano, ottiene un risultato politico importante. L'intesa su ricapitalizzazione delle banche è un pacchetto di misure per rassicurare i mercati e mettere un freno alla speculazione. Borse, subito in positivo, piazza affari, guadagna oltre tre punti percentuali, crolla il differenziale BTP Bund. Che significa? A Bruxelles, dove sempre si discuten le cumbri europei, Mario Monti, che è il presidente dei ministri italiani, ottiene un risultato politico importante. L'intesa, significa il intendimento, il accordo, sobre la ricapitalizzazione delle banche. e un paquete di medidas per rassicurare, significa asegurare i mercati e mettere un freno e dare un stop fuerti alla speculazione. Bolsas, immediatamente in positivo, non è certo che si dice bolsas, perché in realtà stiamo parlando di... Sì, bueno, qui me lo traduce come bolsas, stiamo parlando di, diciamo, titoli azionarii, ok? Osea, della componente finanziaria azionaria che quando si juega in bolsa si compra e si vende azioni. Quindi, bolsas immediatamente positivas. Piazza Fari, che è il nome della bolsa italiana, gana ma di tre punti percentuali. Crolla il differenziale. Osea, praticamente, se baja moltissimo, disminuye di forma molto drastica il differenziale di rendimento tra i bonus italiani e i bonus alemanes. Allora, continuiamo. Questa è una foto di rito, cioè una foto nella quale possiamo identificare Mario Monti, che è il primo ministro italiano, abbiamo Angela Merkel, che è la cancelliera tedesca, e poi abbiamo qui il neo-eletto presidente della Repubblica Francese, Hollande, e abbiamo Rajoy, il Rajoy è anche il presidente dei ministri spagnolo. Cos'è successo? Mario Monti ha iniziato una battaglia politica per, praticamente, aiutare i paesi membri come Italia, Spagna, Francia, contro la politica di austerità e di sacrifici quasi, diciamo, mortali imposti dalla Germania. La Germania, a volte, ripete la sua triste storia imponendo grandi sacrifici al resto dell'Europa. Questa è una mia considerazione personale, ma si basa anche su attualità e su riferimenti storici facilmente verificabili. Comunque, la cosa positiva è stata che, finalmente, grazie al neo-eletto filosocialista Hollande in Francia, e anche grazie a Rajoy, questa linea di Monti per salvare i stati membri e per imporre una stabilità economica e per migliorare la situazione sociale anche a livello europeo, finalmente hanno tutti insieme potuto vincere, almeno parzialmente, questa battaglia. E qui, infatti, continua e dice Dopo 13 ore di vertice, cominciato alle 15 di giovedì, il risultato politico è netto. Significa, è chiaro, l'Italia e la Spagna hanno vinto la Germania. Allora, disculpe a chi è una comma che non l'abbia visto. L'Italia e la Spagna hanno vinto. La Germania, con la spalla della Finlandia, ha perso. E la Francia ne è uscita senza danni. Il premier italiano Mario Monti annuncia Le nostre richieste sono state accolte. L'Eurozona adesso è più forte. Allora, ripeto rapidamente e poi do il significato. Dopo 13 ore di vertice, cominciato alle 15 di giovedì, il risultato politico è netto. L'Italia e la Spagna hanno vinto. La Germania, con la spalla della Finlandia, ha perso. E la Francia ne è uscita senza danni. Il premier italiano Mario Monti annuncia Le nostre richieste sono state accolte. L'Eurozona adesso è più forte. Significa, dopo 13 ore di cumbre, cominciato alle 15 di giovedì, il risultato politico è chiaro, è molto netto, è molto chiaro. Italia e Spagna hanno vinto. La Germania, con la spalla della Finlandia, la spalla che significa con l'aporto, con l'aiuto, o il sostegno della Finlandia, ha perdito. E la Francia ha salito di questa cumbre senza danno. Per lo meno a livello diplomatico, no? Il premier italiano, significa il premier ministro italiano Mario Monti annuncia che ci sono state accolte. Nostro pedito, ose, le cose che abbiamo pedito, hanno stato praticamente ricevuto di forma positiva. Significa che hanno seguito le nostre indicazioni, praticamente. Nostro pedito hanno stato ricevuto di forma positiva. L'eurosona, ora, è ma fuerte. Certamente, quando viene raggiunta, quando si può elograre, quando viene raggiunta una stabilità economica e finanziaria, chiaramente l'Europa, nel suo complesso, nella sua interezza, diventa un organismo più forte. Ma, ripercorriamo le tappe. Nella tarda serata, Monti e il premier spagnolo Mariano Rajoy mettono il veto su tutti i punti in discussione. Soprattutto, Tobin Tax, piano crescita, da 220 miliardi. Qui, sicuro, falta una coma, però, come le dici già, il linguaggio dei periodici, a volte, è un po' così, un po' povere o un po' incorretto, però serve per le necessità dei periodici, che sono differenti. Qui non hai che insegnare l'idea italiano, noi stanno, simplemente, dando informazioni di forma rapida. Per costringere la Merkel a cedere sul cosiddetto meccanismo anti-spread, cioè, un uso con meno vincoli dei fondi, salva stati, EFSF e ESM. Il secondo deve ancora essere costituito. La forzatura ha pagato, alla Finner la Merkel ha ceduto. Ok, questo è chiaramente un linguaggio un po' tecnico, ma proverò in maniera molto semplice, praticamente, a spiegarlo. Quindi, ma ripercorriamo le tappe. Ma ripercorriamo le tappe. Nella tarda serata, Monti e il premier spagnolo Mariano Rajoy mettono il veto su tutti i punti in discussione. Soprattutto, Tobin Tax è piano crescita da 120 miliardi. Per costringere, quindi, Giole puse una E, para juntar, soprattutto Tobin Tax, è piano crescita da 120 miliardi. Per costringere la Merkel a cedere sul cosiddetto meccanismo antispread, cioè un uso con meno vincoli dei fondi, salva stati, EFSF, come si diria, EFSF, e ESM. Chiaramente questa sigla non hai che apprenderla, perché non si intende che sono. Il secondo deve ancora essere costituito. La forzatura ha pagato, alla Finner la Merkel ha ceduto. Quindi, a chi praticamente significa ma, facciamo un recorrido delle tappi. Osea, vuoi dire, che vediamo con calma e tranquillità lo che ha succeduto durante le diverse ore, durante le diverse tappi di questa cunga. In la tarda-noche, Monti e il primo ministro espanolo, Mariano Rajoy, ponen il veto sobre tutti i punti di discusione. Sobre tutto il punto di la Tobin Tax, che seria una imposta sobre le transferenze finanziarie, e il plan di crescimento di 120 miliardi, che seria, credo, billone in spagnolo. per obligare a Merkel a ceder sobre il, diccio, mecanismo anti-spread. Osea, un utilizzo con meno restricioni di fondi salva estados FSV e ESM. Cada vez che lo dico, mi viene da ridere, il secondo, diciamo, sfondo, todavía tiene che ser costituito. La forza dura con la quale hanno imposto questo tipo di veto ha pagato, osea, ha lograto il suo èxito, perché al fin la Merkel ha cedito, ha tenido che ceder e ha tenido che admetto e accettare i pediti di Monti e del primo ministro espanolo. Allora, ragazzi, io ripeto una sola altra volta con la giusta intonazione e poi completiamo la nostra lezione. Ma ripercorriamo le tappe. Nella tarda serata, Monti e il premier spagnolo Mariano Rajoy mettono il veto su tutti i punti in discussione, soprattutto Tobin Tax e piano crescita da 120 miliardi per costringere la Merkel a cedere sul cosiddetto meccanismo anti-spread, cioè un uso con meno vincoli dei fondi salvastati FSV e ESM. Il secondo deve ancora essere costituito la forzatura ha pagato alla fine la Merkel ha ceduto. Allora, ragazzi, io comprendo che questo articolo, che questa notizia possa essere diciamo un po' tecnica, un po' complicata perché chiaramente stiamo parlando di temi economici che probabilmente non sono interessanti per tutti, però posso dirvi che attualmente in Europa e certamente in Italia, queste tematiche sono molto importanti perché diciamo hanno un impatto diretto sull'economia reale del nostro paese e anche diciamo sugli equilibri sociali del nostro paese e di tutta l'Europa. Posso dirvi che questa è stata una grande vittoria politica e diplomatica dell'Italia e posso anche dirvi che sono molto felice di questa unione, di questa grande amicizia di questo sostegno tra Italia e Spagna e anche tra Italia Spagna e Francia. Quindi spero che questa notizia vi abbia potuto offrire una diciamo visione completa anche dal punto di vista economico in Europa e anche in Italia e io vi ringrazio molto per la gentile attenzione e ringrazio anche il Fatto Quotidiano perché è un ottimo quotidiano ed è un ottimo strumento per conoscere e per avere notizie dell'Italia e dei principali fatti di attualità. Lo ringrazio e vi invito a leggerlo perché è uno dei giornali realmente indipendenti in Italia e vi ringrazio realmente per la vostra simpatica e gentile attenzione e ci vediamo alla prossima notizia un grande abbraccio da Marco e buona giornata ciao a tutti ciao ciao ciao